Oggi, 8 febbraio, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bacchitta, la suora sudanese che da bambina fece la drammatica esperienza di essere vittima della tratta, l'Unione delle Superiore e dei Superiori Generali degli Istituti Religiosi hanno promosso la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. In coraggio quanti sono impegnati ad aiutare uomini, donne e bambini schiavizzati, sfruttati, abusati come strumenti di lavoro o di piacere, e spesso torturati e mutilati. Auspico che quanti che hanno responsabilità di governo si adoperino con decisione a rimuovere le cause di questa vergognosa piaga. È vero, è una piaga vergognosa, una piaga indegna di una società civile. Ognuno di noi si senta impegnato ad essere voce di questi nostri fratelli e sorelle, umiliati nella loro dignità. Preghiamo tutti insieme alla Madonna. Preghiamo la Madonna per loro e per i loro familiari. Preghiamo la Madonna per loro e per i loro familiari. Preghiamo la Madonna per loro e per i loro familiari.